in quanto composto sia da una parte più sensuale, da una parte più energica, tipica delle danze africane. Quello però riguarda il terzo movimento che non eseguirò stasera, però il secondo movimento appunto sentirete questo rumore di Cavalli e dell'eco, perché rientra nella sfera della musica programma dove il titolo è esplicativo per la comprensione della composizione stessa. Grazie. 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 Grazie.